ok allora sono terrorizzanti sti alberi puttana ma come si muovono si si muovono aspetta un secondo ecco guardate quanto si muovono con gli alberi ecco il nostro obiettivo facciamo così indietreggiamo e facciamo quel pezzo qua sotto e almeno abbiamo dato un'occhiatina al chiusco c'è un puntato che avanza ma io stai a te scagherai c'è rotoli e sotto è gabri su 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 vai 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 coprimi che sargo anch'io ok bel figlio ma che corre filippo è corso in quella direzione andiamo qui dritti vieni andiamo cerchiamo di essere silenziosi e di non farci vedere tattico che sei a parte le scarpe c'è qualcuno attento che lì si è scoperto fermo 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 ok dentro mi sa che c'è una persona cosa quindi treggi e Grazie a tutti. 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 Grazie.